Cristina Chirichella, al termine di Italia-Russia, le tue parole? Beh, sicuramente potevamo far meglio, sappiamo che comunque la Russia è una squadra forte, dobbiamo stare attenti punto per punto, fino a un certo punto abbiamo retto, poi un po' la testa è andata via, però dobbiamo partire da questa partita. Peccato per i primi due set, soprattutto. Sì, abbiamo punto a punto, forse anche quello c'è un po' demoralizzato, però siamo cariche, quindi ogni partita è a sé. Un pizzico di emozione a debutare in una manifestazione così, la Final Six? Sì, assolutamente sì, è sempre bello giocare ad alti livelli, giocare con persone che comunque hanno una storia, un percorso, quindi è sempre bello. Domani cosa ci aspetta? Eh, domani sarà dura, abbiamo un'altra squadra fortissima davanti, però non temiamo nessuno, andiamo con grinta e con forza in campo.